Che cosa, Vera? Vuoi affrontare tu la strega da sola? Ma sei impazzita! Ehi, combatti! Combatti, Vera! Combatti, combatti, Vera! Combatti! Combatti! Vitto Family! Io sono Vittorio e come potete vedere sono ancora un gatto! E sì, perché dobbiamo ancora spezzare la maledizione della strega! Però ho una buona notizia! Finalmente ci vediamo! Possiamo incontrarci tutti, tutti, tutti quanti! Precisamente il primo mazzo a Torre del Greco in provincia di Napoli In via Roma 49 Ci potremmo dare tantissimi abbracci e scattare foto Vi aspetto! Bene, ragazzi, ci sembra un'idea! Un'idea! Un'idea per sconfiggere la strega! Come possiamo fare? Qualcuno ha un piano? Cerchiamo sul computer! Sul computer? Dovevo vedere le streghe e di cosa hanno paura! Sì! Sì! Di cosa hanno paura le streghe? Diccelo, cavolo! Siamo da mezz'ora! Eh, hanno paura della magia contro di loro! Eh, anche! Però la scorsa volta non ha funzionato! Dobbiamo usare qualcos'altro! L'acqua! L'acqua! Eh, ma pure quello non funzionò! Quindi c'è la terza cosa! No! No, non è il puio! Le streghe adorano il puio! La dolcezza! No! Quello è Evil Santa! Si sconfiggere con la dolcezza! Ma la strega... Si sconfiggere in un altro modo! Qual è questo modo? Non lo so io! Mettiamo sul computer! Come si usa questo coso? Miau! Che le streghe hanno paura dei topi! Cosa? Un topo? Ci sembri vera! Capito! Ah! Topo! Miau! Miau! Aspetta! È il topo vera! Aspetta! È un topo d'ivo! Non c'è gaspio! Come si sconfiggere la strega! Ma quanti punti di roghe mi stai mettendo Federica? Scrivi più in fila! Ma quanti punti di roghe? Ma che cavolo? Ma quindi possiamo utilizzare questo topolino topeloso che a me piace tantissimo! Guarda quanto divertente questo topo! Davanti indietro! 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 Ah! Ah! Ok! Aspetta! Aspetta! Com'è che si fa a muovere questo coso? Poi! No! Aspetta! Io non lo so fare! Come si faceva? Eccolo! C'è il telecomando per comandare il topolino! Giusto! Ecco! Questo sarà la nostra... Allora chi è che vuole comandare il topolino? Io! Allora! Fate una sfida! Chi lancia il dato e prende il numero più alto comanda il topo! Vai! Coraggio! Coraggio! Lancia! Inizia prima Veronica! Vai! Vediamo chi è che sconfiggerà la stessa! La strega! Boing! Boing! Ehi dai! Verona! Vai! Deve rilanciare! Dai rilancia! Non vale al coraggio! Quanto è? Ma perché si ferma così a benza aria? Non vale niente! Rifai! Due! Se Federica fa uno... Vinci tu Veronica! Vediamo! Quattro! Quattro! Vera! Lascia stare la paperella! Ora comatterò io! E tu invece farei un'altra cosa! Tu farai... Da esca! Da esca! Sì! Ora... Aspetta però! Dobbiamo armarci! Prendetevi le vostre armi! Ecco qua il nostro arsenale di armi! Per scegliete la vostra arma! Io voglio questa qua perché... Aspetta voglio la bluio! Voglio la bluio! Voglio la bluio! Cosa c'è? Cosa c'è? Oh! Federica tu vai sul far west! Allora ti piacciono le pistole? Mi stai qua nei cowboy! Ma la mia è scarica! Non spara! Non tu scargano! No! Non spara! La mia spararia! Pium! 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 Puoi sparare tu! Ma io non posso vedere questo topolino è in mano perché è un topo io ci gioco! Ti devi far citare! Va bene va bene allora lo faccio io lo scherzo alla strega! Sì sì! Perfetto! Federica invece... Allora dovete mettere le munizioni alla mia pistola! Va bene mettere le munizioni! Io invece diventerò... No mi hai rubato il ruolo! No è troppo stritta non mi entra questa... Bene vitto femmini siamo pronti a mandare il nostro attacco masticcio alla strega! Sì! Grazie! Ma perché è elettronica? Ma magari le carica alla vicina al microfono ma che c'entra carica la bicina al microfono? E' pesante! Guarda come è pesante! Ma è pesantissima questa pistola! ok bene andiamo ma io ho paura ma se io vedo la strega io mi faccio cadere la telecamera ho paura ora proviamoci vado io silenzio 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 se guarda il cane dice che vede l'uomo se lo guardi in 10 secondi se lo guardi negli occhi in 10 secondi che ne devo mannare no federica perchè hai fatto 9 mamma mia che paura la strega sta dormendo sta la la strega no aspettate 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 ma sei pazita sei ti sente ti sente ma basta firmala firmala sei pazita hai svegliato la strega tu sei pazza ma sta pazza ma sei pazza hai svegliato la strega ma che cazzo no federica dove sei ho paura ho paura ho paura strega strego no mica sei qui aspetta accendiamo la luce perchè se non ho paura ecco aspetta silenzio vitto family secondo voi la strega sta qua vicino oppure se ne tornerà a dormire ecco ah ah dove dove federica veronica maledizione non mi lasciate qua da solo ho paura io ecco sono un fifone faccio anche la pipì sotto speriamo che non l'ho fatta bene ok andiamo a vedere se sta qua del bagno strega ok non c'è niente non c'è niente meno male meno male nel bagno non ci sta niente andare ok vabbè massima attenzione perchè potrebbe essere una trappola questa sicuramente stiamo attenti no non c'è niente qua ok ho sentito il rumore avete sentito avete sentito il rumore sta qua dietro sta qua dietro aspetta sicuramente sarà qua vediamo un po' se sta qua dietro di nuovo non c'è aspetta un attimo ma dov'è vera vera che cosa vera vuoi affrontare tu la strega da sola ma sei impazzita no vera non andare la visto family vera vuole affrontare la strega da sola no non credo che sia pure idea questa vera dove vai no vera non lo fare non lo fare te ne mentirai vera sei impazzita la strega ti trasforma in un cinghiale scappa no vera combatti combatti vera combatti combatti vera combatti combattila stendila stendila vai ce l'hai ce l'hai presto prendi il topolino il topolino prendi il topo presto presto prendetelo prendetelo vai vera distruggila 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 vera 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 il topolino ti trasforma prendi il topo adesso è il momento del topo ma no vera qui lo serve la strega vera dove vai il topolino ah 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 il topolino 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 vai ti piace questo topolino eh ti piace eh no oh no vai scappa scappa solo quello si pare ah ah sì abbiamo sconfitto la strega sì brava vera sei stato bravissimo vera ha sconfitto vera ha sconfitto la strega sì brava vera mmm ma vera è mia anche lo facevo no 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 Grazie a tutti.